L'assegno di cura è un sostegno economico per le famiglie che hanno nel proprio nucleo familiare una persona cosiddetta gravissima, cioè con gravissime disabilità, ed è un sostegno economico di circa 1200 euro al mese. Nel 2023 questa amministrazione ha avuto circa 972 richieste a fronte di una mancanza di circa 3 milioni di euro perché il ministero aveva dato un taglio a questa misura economica, imponendo le amministrazioni di attuare la restrizione attraverso il modello ESEE. Questo avrebbe consentito solo a tanti adulti gravissimi di usufruire della misura perché possono avere l'ISEE ristretto, escludendo i bambini gravissimi che non possono usufruire dell'ISEE ristretto. I 3 milioni di euro sono stati reperiti nell'area welfare, sono stati inseriti nel nuovo bilancio e serviranno per pagare le ultime 3 mensilità del 2023 appena sarà approvato il bilancio. Purtroppo per il 2024 la situazione è ancora più grave perché abbiamo 1272 richieste di assegni di cura e abbiamo una mancanza di circa 7 milioni di euro. Purtroppo l'Aggiunta nel 2024 non potrà fare la stessa scelta politica che ha fatto nel 2023 perché sono tanti i fondi e non abbiamo la possibilità di sostituirci allo Stato. Questo comporterà che molti bambini resteranno fuori da questa misura. Io chiedo al governo come assessore alle politiche sociali e anche padri di una bambina disabile di rivedere questi tagli, di dare la possibilità alle famiglie che sono distrutte, affaticate nell'affrontare la quotidianità della vita con un bambino gravissimo disabile, un adulto gravissimo disabile, di poter usufruire di questo contributo che è fondamentale per la gestione della quotidianità.